Negli episodi precedenti Siamo arrivati a Dublino Come fa capito una cosa? Questa è la mia cameretta Adesso mi stanno accompagnando a scuola perché non so la stare Ok buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro video Non urlo troppo perché è mattina Comunque oggi siamo qua nel secondo giorno in Irlanda E finalmente si iniziano tutte le vere e proprie attività Che in realtà abbiamo fatto tutt'altro perché non avevo capito nulla ma mano mano vedrete Dunque la mattina avremo lavoratori, nel mio caso arte E pomeriggio come ieri avremo lezione E poi chi lo sa, magari oggi faremo qualcosa di più Ormai conosciamo un pochino di più la città Ieri ho pure girato in centro Ah dimenticavo stasera sorpresina ma ci arriviamo un passo alla volta Direi che è il momento di iniziare questa nuova giornata e andiamo Colazione con il solito caffè americano e poi sopito in college per scoprire che Sì no oggi si va in gita Primo giorno in college ha stravolto il programma che pensavo perché non avevo capito nulla Oggi pensavamo di fare prima i laboratori per le lezioni invece no Faremo solo le lezioni oggi pomeriggio come ieri Perché andiamo in gita We go to a trip Le Clifford Motor Sono tipo degli scogli altissimi dove hanno anche registrato un pezzo di Harry Potter Si aspettano delle aspetti molto alti Però per arrivarci ci vorranno tipo 40 minuti di Pullman Infatti adesso siamo così Pullman E ci guardiamo un po' il paesaggio Guardate le belle mucche Figo un campo da golf bellissimo Oh Billy già lo sai Stiamo arrivando Che figo Questo è il Pacifico Sì che figo Il bello che con il fatto che avevo scoperto la mattina stessa Che saremmo andati alle Clifford Motor Sono arrivato là in felpa con tantissimo vento Una felpa che era al limite però ci stava ancora E poi non mi ero nemmeno portato la telecamera ma a dettagli Siamo attrezzati Siamo attrezzati con la felpa E basta Io non sapevo oggi che andavamo qua E io non mi sono portato la telecamera Sto registrando col telefono Eh vabbè che baglio E poi ovunque andavi trovavi la gente nel Chile Che stava a suonare alle Clifford Motor Così E poi ho chiesto qualche informazione alla ragazza che ci guidava Poi abbiamo notato che c'era anche una torretta Per vedere da un po' più in alto E non abbiamo fatto a meno che salirci sopra Qua c'è quel corpo C'è che c'è qua dentro? C'è una torre Stiamo salendo questa lunghissima scala No ci sono altre scala Ah ok ma non si vede niente Eh no se metto il telefono fuori è un problema Totalmente inutile sta cosa non si vede niente Gli italiani si vanno sempre a notare devo dire Gli italiani the best Mantici che sdolcinati Forse qua si può vedere Ah si qua si vede qualcosa Si vede qualcosa ma meglio non esporsi dopo Che poi alla fine con quelle mura così spesse che c'erano sopra Che ci stavano Si vedeva pochissimo Cioè non è che proprio non ne vale la pena Però bisogna esserne consapevole Ma non bisogna neanche aspettarsi troppo Poi dopo aver dato una monetina a quell'uomo molto simpatico Che stava là a suonare Siamo andati allo shopping center Là sempre delle Clifford Motor Adesso entriamo in un shopping center No ma sono dei prezzi improponibili Ma si può Perdi i capelli Five minutes later No ma che figa Me la comprarei questa No non è male dai Che capelli Però questo non serve Che fighi sti capellini With the sheep Eh questi mi sa che non sono per me Ok ho deciso prendo queste due cose qua Spendo un patrimonio ma Va bene Siamo pur sempre sotto il Clifford Motor Poi pausetta bar Siamo in un caffè ristorante Ragazzi dopo esserci seduti in questo strano Il bar Abbiamo preso questa torta qua particolare Qua è andata a 6 euro Vediamo se ne vale la pena Non è male Però non so se vale veramente 6 euro Però è buono Non è male Tipico in realtà è buona Qua mettono dappertutto il caramello salato E dopo l'ho sentito meglio È buona Figo Poi è tipo una roba interattiva Per conoscere le Clifford Motor Proviamo a fare sta roba qua Ci fanno una foto E poi ce la invidiamo da là E dopo cose strane interattive Siamo tornati a Dennis Poi Mac per andare sul sicuro E solite lezioni Con anche momenti molto goliardi Ci devo dire Per poi tornare un attimo a casa Perché Ok ragazzi Siamo tornati da questa giornatonna Ma non è assolutamente finita Qui Perché stasera giornata speciale Nel senso tutti i mercoledì In realtà siamo qua due settimane Dunque due mercoledì Si va in disco Cioè non sarà una discoteca vera e propria Però credo saremo in un pub E niente Adesso faccio una doccia Mi vesto Mangio E andiamo Che poi siamo usciti fuori di casa Che erano le 18.30 Ed eravamo in anticipo Ma nemmeno troppo Perché ciò che facevamo di sera Doveva rientrare tutto dentro Dentro le 22 Che però l'estate è prestissimo Ok ragazzi Siamo usciti Sono solo le 18.45 Però in realtà Nel senso che È tra un'ora La festa Ci ha lasciato prima in giro Però ci tocca aspettare Un'ora Comunque qua è tutto così pulito Guardate questo bellissimo castello E poi ho scoperto che in Irlanda Ci sono tipo 30.000 castelli Non è fattibile questa cosa Infatti ovunque mi giro Ci sono castelli Poi un'ora dopo Oh finalmente si inizia Edo sei pronto Ma poi gara e disturbi Italiani che si facevano tanto notare E poi quando è finito C'era ancora luce E c'è la luce fuori Ma non ha senso sta cosa E adesso andiamo a casa Niente Siamo usciti dall'escoteca Cioè non c'è buio È strana questa cosa Vabbè poi si fa così Perché abbiamo il coprifuoco alle 22 Noi minorenni Dovremmo essere a casa Dentro alle 22 Tra tipo 10 minuti Nemmeno in realtà Però E poi alla fine siamo tornati Giusto in tempo Per il coprifuoco delle 22 E basta Direi che per questo video è tutto Come al solito Iscrivetevi Così almeno siete aggiornati Su tutti i video che escono E direi che qua Da Ennis Dall'Irlanda È tutto A voi studio Ciao Aioni Nel prossimo episodio Spostato 80 volte Non so dove cacchio Dovremmo fare questo laboratorio Noi dobbiamo fare un'intervista E ci siamo ritrovati a mangiare pane Con fagioli e uova Stamattia ci portano al bowling